Musica 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 bravo, mi ha tolto la parola dirci qualcosa questa tua immuenza è tutto il tuo modo di fare purtroppo quando passano gli anni gli anni impasiti al peso il fisico non tiene bisogno di andare in due enti per cercare di fermare gli avversari cercare di continuare il proprio intento diciamo io comunque sono molto fiero di far parte di questa squadra continuerò così se la squadra è contenta se il ministro mi vuole continuo tranquillamente e speriamo che negli anni riesco ad allenarmi perché purtroppo mi alleno proprio purtroppo al lavoro queste cose si capiscono quindi il prossimo anno sarà l'ora come dicevo con gli altri ragazzi con questo rito su questa ultima vita la prospettiva speriamo di fare un ottimo campionato lo spero fortemente non facciano molto conto su di me lo spero sui giovani ma partiamo no no nel senso nel senso che la mia presenza sarà pieno proprio pieno però cercherò di allenarmi tutto però è chiaro che si fa conto sui giovani e poi ormai facciamo soltanto un po' invogliando diciamo invogliando i giovani a lottare come chiaramente vogliamo perché sinceramente finché riescono adesso per il mio mix la gente sia il massimo per la nostra situazione vi grazie a tutti Cecconi qui da Telescante tutto alla prossima grazie a tutti